Se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account, contattatemi in chat privata dove ci potremo mettere d'accordo sul prezzo e dove potrete visionare i listini. Ciao a tutti ragazzi sono GTTV e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto dal titolo vi farò vedere questo nuovissimo glitch da fare in solo anche se non è proprio nuovo perché ve l'avevo portato due settimane fa ma ho visto molta disinformazione e questo glitch ragazzi funziona ancora è uno dei pochi che non è stato patchato in solo. Quindi i requisiti leggete qui a schermo, vi consiglio di avere il centro operativo mobile con il cofano piatto se così si può dire perché funziona meglio il glitch. Quindi ragazzi la prima cosa da fare è salire sull'auto che vogliamo duplicare come al solito vi consiglio, auto di Bennis oppure auto Arena War perché sono quelle che vi danno più soldi e quando le andate a vendere non vi conta solo le modifiche dandovi pochissimo e la andate a mettere ragazzi a fianco al muretto qui. Io in questo caso, nel mio caso, se volete mi potete ricopiare tranquillamente io la metto di faccia avanti in questo modo e dovrete fare in modo ragazzi che in alto a sinistra vi esca freccia destra per metterla all'interno del centro operativo mobile e ci sia il pallino blu quando state in auto. Quindi come vedete in questo caso ho il pallino blu fuori del centro operativo mobile e ho la freccia a sinistra e quindi posso scendere. Quando scendo ragazzi devo controllare che ho il pallino blu anche fuori dal centro operativo mobile e questo passaggio è fatto adesso dovremo semplicemente uscire dal bunker e dovremo ragazzi aprire la mappa, andare su opzioni e selezionare una di queste iconcine blu. Se non ce l'avete semplicemente andate nel menu interazione e andate su nasconde attività mettete tutte quante su mostra. Quindi ragazzi premete quadrato su una di queste, andate poi a fare un partecipo alla sessione su una persona a caso, vi riporterà il gioco quando l'avete fatta, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo e così ragazzi vi siete teletrasportati. Sto andando più veloce nello spiegarvi questo glitch ragazzi perché l'avevo già portato una volta quindi se volete un video più dettagliato ve lo lascio nel commento bloccato in alto. Quindi una volta che vi siete teletrasportati dirigetevi al vostro appartamento di lusso che appunto deve avere la possibilità di cambiare stile l'appartamento e una volta che ci siete entrati ragazzi dovrete andare nella sala delle preparazioni, delle missioni insomma dei colpi. Dovrete avere ovviamente un colpo attivo come avete letto all'inizio e adesso cosa dovrete fare? Dovrete premere opzioni appena lo rilasciate freccia destra in modo che vi esce questa schermata così. Dopodiché andate su criminal enterprise starter pack, tornate indietro e adesso ragazzi aprite il menu interazione e andate su stili e cominciate a premere freccia in giù X, freccia in giù X, freccia in giù X finché non vi si leva questa schermata nera che vi si apre. Quindi freccia in giù X, freccia in giù X adesso ho velocizzato il tutto. Se non vi funziona e vedete che ci state provando da più di 5 minuti e non vi funziona semplicemente ragazzi chiudete GTA e ricominciate tutto da capo. Questa parte è un po' noiosa ma certe volte potrebbe non funzionare. Quindi ricapitolando opzioni appena lo rilascio freccia destra, criminal enterprise starter pack dopodiché vado su stili e faccio questa cosa qui. Come vedete mentre io premo freccia in giù X me l'ha finito di selezionare adesso torno tutto quanto indietro e adesso ragazzi semplicemente mi teletrasporto al nightclub oppure alla base operativa oppure all'arena war, dipende dove volete duplicare. Io utilizzerò il nightclub quindi nuovamente riselezionate una di queste attività blu premete quadrato sopra questa attività per iniziarla. Una volta che vi ha portato nella lobby di attesa andate a fare un partecipa alla sessione su una persona a caso, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo se accettando il primo messaggio vi porta in un'altra sessione è perché siete stati così fortunati da beccare uno nella vostra stessa mira adesso ragazzi una volta che vi siete teletrasportati andate nel vostro nightclub salite su una RH8 a caso io ad esempio salgo su questa qua, aspettate che si accenda il motore e poi premete il tasto per accelerare una volta che appunto avrete accelerato con l'auto uscirete, vi farà questo caricamento nero e uscirete fuori a piedi quindi uscirete fuori senza auto. Una volta usciti fuori senza auto ragazzi riandate nelle opzioni andate vicino al vostro bunker in uno dei pallini blu e vi teletrasportate quindi nuovamente partecipa alla sessione, accetto il primo messaggio e rifiuto il secondo in alternativa se non volete fare la cosa del teletrasporto utilizzate un bunker, sì un bunker, un buzzard l'importante ragazzi è che non utilizzate veicoli personali durante il glitch perché sennò vi scazza tutto quanto mi raccomando quindi una volta che vi siete teletrasportati al bunker ci dovrete semplicemente entrare e ragazzi troverete lì se avete fatto tutto quanto correttamente non avete richiesto veicoli personali durante il glitch il vostro veicolo che stavate duplicando adesso mi raccomando molto importante cosa dovrete fare prima di salvarla salite sull'auto e non la muovete quindi semplicemente premete triangolo ci salite sopra attendete che l'auto si accenda quindi che faccia il rumore del motore una volta che l'ha fatto scendete entrate nel centro operativo mobile dal pallino blu ed uscite fuori sempre da dove siete entrati in sintesi quindi non rifate tutto quanto il giretto come negli altri glitch ma semplicemente uscite da qua quindi rifate qua e uscite dal rimorchio adesso semplicemente salite sull'auto senza muoverla premete freccia destra e accettate il messaggio che vi esce ovvero che è pieno l'originale si trova nel nightclub oppure nella base operativa oppure nell'arena war dipende da dove avete preso la rh8 quindi in sintesi si trova al posto della rh8 la copia si trova nel centro operativo mobile per continuare a duplicare ragazzi andate nel creatore e andate in una nuova sessione ad inviti se duplicate arena war oppure veicoli di bennis potrete continuare senza problemi quindi spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi se siete nuovi lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao